Grande successo ieri per la classicissima di corsa in montagna Bolognano Velo, valevole per la Coppa del Mondo 2017 e prima prova del campionato italiano assoluto. Al via alle ore 11 davanti alla chiesa della Dolorata di Bolognano, tra le bandiere del palio delle contrade e dal suono delle campane, tutti i migliori interpreti della specialità italiani e stranieri. La partenza principale è stata accompagnata dalla benedizione di ben due sacerdoti, ovvero i parroci sportivi di Bolognano di oggi e ieri. Il parroco di Bolognano Don Franco Torresani, già nazionale negli anni 90, e l'arcense Don Augusto Tamburini, che negli anni 70 partecipò con successo a diverse edizioni della Bolognano Velo. Ci parto appunto a questa leggendaria corsa, è qui con me, ormai qualche anno in più, comunque ci assiste, ci custodisce insieme alla Madonna Dolorata che ci guarda qua. Durante la messa poco fa, la penetrazione del testino dell'ascensione, però anche come dire parco salita, è venuta l'illuminazione di far ripartire all'interno della chiesa, magari con una dilupazione, con un articolo penitenza supplementare. Poi l'aspetto logistico mi ha suggerito di non provare questa operazione. Comunque ugualmente ci assistono, siamo la Madonna Dolorata e Chissanti, che incontreremo lungo il percorso, in particolare il momento utopico San Francesco. Se qualcuno vede la chiesa a distanza, ecco, domando il suo aiuto. Alla fine della salita di Martini e poi Santa Barbara, e poi soprattutto Sant'Antonio, che ci spetterà l'arrivo. Dopo il ristoro, dopo il recupero, ci sarà anche la messa in onore di Sant'Antonio. Ecco, vi auguro veramente che dal cielo vi assista qualcuno. Io ormai non ho più, diciamo, le possibilità per competere con i primi. Se arrivano i primi 70 è già qualcosa, quindi non ho bellità particolari. Comunque come sentivo ieri sera in notturna, a Gino d'Italia, una testimonianza di un ciclista che nel 2001 è arrivato a Maglianera, diceva che il vero ultimo non era Maglianera, ma chi si ritira. E quindi auguriamo a tutti, dal primo all'ultimo, non so quanti siamo, il 210, auguriamo una giornata di festa, di sport, a voi e a tutti gli organizzatori, accompagnatori, che arriviate stanchi ma contenti di partire il meglio di voi stessi. E allora vediamo qua, con l'univo chiede di pace, che è il nostro territorio del Garda. Allora Augusto, scena su tutti voi, la benedizione del cielo. Nel padre, del figlio e dello spirito santo. E si aludate del Cristo. Mi tanto manca un minuto. E allora vediamo qua. Grazie a tutti.